Radio Italia Live, il concerto, l'evento live più importante della musica italiana, per la prima volta a Napoli. Il concerto Radio Italia Live, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, la sua sedicesima edizione, arriva per la prima volta a Napoli. L'appuntamento è in piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno alle ore 20 e 40. E Napoli è nel nostro cuore perché abbiamo un sacco di amici a Napoli, perché c'è una piazza meravigliosa, perché la musica italiana forse è ancora prima che in Italia nasce proprio a Napoli. Insieme a Radio Italia, il comune di Napoli è coorganizzatore dell'evento nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica Live Festival 2024. Protagonisti sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Ant, Rose Villen e Tananai, accompagnati dall'orchestra di Radio Italia Live, diretta dal maestro Bruno Santori. Questo è l'unico evento veramente live, quella che abbiamo battezzato ormai dell'anno scorso, la nostra Radio Italia Live orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Quindi vengono riarrangiati tutti i brani che verranno eseguiti sul palco. Sono 12 artisti, 3 brani ed artista, sono 36 arrangiamenti per un'orchestra sinfonica composta da 60 elementi. Un evento che coniuga musica e solidarietà e il concerto di Radio Italia sostiene la Fondazione Santo Bono Pausillipo nell'ospedale pediatrico di Napoli, con una raccolta fondi a sostegno del progetto di assistenza domiciliare e curare a casa. Si potrà donare inviando un sms al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. Con la campagna io sono molto legata, capito? Al di là del ciclo, proprio le persone, io da buon inizio a fare questo lavoro ho sempre trovato un'energia diversa, ecco. Per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dagli Euro12 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata a richiesta a crediti e seguire le istruzioni.